Ehi piccola, ti ricordo che mi trovi in live sulla piattaforma Viola dalle 21.30 dal lunedì al venerdì. Passa di lì se vuoi goderti lo show e se mi vuoi supportare fai anche una soap. Ti ricordo che con Amazon Prime è gratuita. Baby you light up my world like nobody else. Tu hai mai visto Paki dal vivo? Sì. Che buono, tra l'altro oggi l'ho provolato Paki. Che cosa vuol dire? Ma in che senso l'hai provolato? Dillo che mi hai lanciato una frecciatina. Eh c'è, allora ti diamo a me, aspettiamo. Lo sapevo che era per me, me lo sentivo. Vedi l'ho colta. Senti, tu mi rovini sempre i giochi, ok? Tu mi ammazzi il contento, tu mi tagli le gambe. Ma io non capisco. No, ci metti troppo poco tempo, sei troppo veloce. Non puoi entrare e dire ho provolato con Paki. Ma è buono. Ma fagliela un po' sudare, ma portala più avanti. Palleggiala, gestiscila, spostala, boom. Paki, non mi piaci. Taglia dentro, azione. Fai cagare. La palla, vado a canestro. No, non penso. Bowling, così, così. Va bene, Paki, mi fai schifo. Posso prenderti un biglietto del treno e vieni a Milano adesso? Vedi, no, no, non va bene, non va bene. Deve durare di più, deve essere una nagrazione. La gente deve... Vado di far schifo, non mi piace. Il tempo di arrivarci, passo passo. Un pezzettino alla volta, uno scalino alla volta. Tu arrivi, boom, voglio il cazzo, basta! Ricominciamo. Ok, faccio la ragazza composta. Dicevamo? Ciao. Piacere. Come ti chiami? A parti con me? Sì. Pachi. Ma è veramente il tuo nome, Pachi? Pasquale! Pasquale. Quash, quash. Sai che uno dei miei primi amori si chiamava Pasquale? Cioè, per finta. Vabbè. Però lo chiamavano... Allora forse un altro Pasquale entrerà nella tua vita. Guarda, lo stavo proprio aspettando. Piano, piano. Cioè, nel senso, forse, forse è da vedere questo. Questo è da vedere. È da vedere. Perché non mi faccio conquistare facilmente. Ah, ok. Vabbè, ci sta. Mi canti una serenata? Hai qualche gusto particolare? Dolce, romantico. Fammi pensare un po'. Ho un'idea, ho un'idea. Cantiamo Annatatangelo e Gigi D'Alessio. Io faccio... Ah, mo' sì. Mo' sì. Un nuovo bacio. Per me, per me. Pietro, metti la. Vado? Vai. Vai. Negli occhi miei. Ormai ci stai. Vai, la Ginis. Ma tu la sai? C'ho le parole. Ok, vai. Vai, 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 vai. Ma inizia, Anna? No, che? Chi è che inizia? Ah, è quella che fa... Anna. Ok. Un vetto da cuscino... Negli occhi miei. Ormai ci sei. Chissà se con lo stesso sguardo vedi bene gli occhi tuoi. Ah, sì, ma abbiamo sbagliato. Iniziamo a Gigi. Oh, madonna, ma siete una... Siete faticosi, cazzo. Dai, vai, come non importa. Invertitevi i ruoli. Da capo, da capo, da capo. Da capo. Da capo, ragione, ragione. È un errore mio. Ok. Sulle mani cassa la maga di Stabia. Ah, sì. Negli occhi miei, ormai ci sei. Chissà se con lo stesso sguardo vedi mie negli occhi tuoi. Allora sì, io devo dirtelo. Mentre provavo a non pensarti, ti pensavo sempre più. Siamo un po' troppo vicini adesso, per scappare via. Tu non lo sai, Prima di te. No. Tu non hai paura, giuro amore, sono più a difenderti. Con il tempo guarito i tuoi lividi, cancellando i lividi. E per tutti i giorni che verranno ti respirerò. Tu le mani. Io ti dirò qualcosa, vedete, vai. No, noi siamo, e voi, non c'è lì. Il mio petto raccocci, non per l'aiuto di farà. Dov'è? Una storia senza fine, per girare il bando intorno. Vabbè, diciamo che non stiamo andando a tempo. Bella, posso dire, è stato veramente un siparietto stupendo. Vero, vero che, guarda che io so essere anche molto romantica. Sì, ma questo calore lo dobbiamo trasformare in fuoco. Ti faccio i miei complimenti, Noemi. Vabbè, Naomi. Noemi? Scusami, Naomi. Ti faccio i complimenti, veramente... Ce ne colchiamo. Brava. Perché sono diventata una ragazza, peggiorce. Sì. Sto tanto aspettando che Pachi venga a cantare dal vivo. Più che altro, me l'hai già capito, ma lei... Pachi, canti meglio di Diego Lazze. Vabbè, non è che ci vuole tante. Ah, è scherzo, vitamina, lo sentiamo Diego. Ma io... Trovo però la mia strada. Naomi, tu avresti accettato? Un fit con te? Sì, un fit con me. Una canzone? No, un porno, cioè, un videoporno. No. Perché? No, no. Perché, allora, se dovessi iniziare con un porno, sceglierei Martina Smeraldi e Sims. Ok, ma questo è proprio... Questo nel... Forse nella tua stupenda e molto colorita fantasia, però dico nella realtà... Però se devo scegliere un ragazzo, sceglierei Pachi. Ok, ma non ti sto chiedendo se scegliere sti Pachi. Comunque un porno è che devi farci una relazione. Io ti sto dicendo... Scegliere Pachi. Ma non è che devi sceglierne uno? Puoi farlo anche con... Puoi farla, capica, che dice cose. No, uai, sta posto. Che le insulti, bro, mentre... Tu mi sembri tipo uno che fa tipo... Prrr, gattina, prrr. Sì. Pietro, Pietro. Buonasera sono appena entrato. Ma hai carriato la leva, è solo Pietro? Sì. Perché tu mi sembri tipo... Porcaccio di... Per questo dire una cosa. Ma perché, Daniele, perché... Caccia di questa cosa. Grazie, però. Cosa, come hai detto, no? L'estetica è i colori. Cosa? No, dicevo, tralasciando l'estetica è i colori. Magari sono un pochino diversi. Però secondo me, non deve capitare perché sono geloso. Però secondo me, è Davide... È un buon... Cioè, sì, è molto simile a me, secondo me. Sì, Davide gli assomiglia. E sono molto... Ma... Sessualmente o esteticamente? No, sessualmente. Sessualmente parlando. Tu hai visto lui far l'amore? No, però ti ho detto che io... Tengo un po' quella cosa... Wow, cosa... Ah, cosa... E come hai fatto a saperlo l'uno dell'altro? Inizia a pensare strano. Ti stai facendo che vorrebbe... Tipo, farlo con il tre. Vuoi fare una cosa a tre? Non ho detto questo! Ah, sì! Sono geloso! Sono geloso! Sono geloso! Così ti sta proponendo di fare... Vabbè, ma per gli amici questo caso... Dice, sono geloso... Vabbè, ma per gli amici questo caso... Vabbè, ma per gli amici questo caso... Vabbè, ma per gli amici questo caso... Non è un problema del senso... Mi facciamo ammaccati... Mi vuole condividere con tutti gli amici... Noi napoletani... Oltre siamo... Wow, wow... Siamo anche... Capì, condividiamo con gli amici... Quindi è giusto così... Glielo spieghiamo, Paghi! Quindi Naomi e te piace un po' questa cosa napoletana? No, basta! Non mi piace più!